Ellie Schlein, segretaria del Partito Democratico, bentornata. Le dispiace che non fa il confronto con Meloni. Evidentemente qualcuno ha preferito rinunciare a un ampio spazio di confronto in prima serata pur di impedire di farlo alle due donne che guidano i primi due partiti d'Italia. Hanno tolto un'occasione, credo, di fare chiarezza, di raccontare... Ma che le avrebbe detto? Beh, tante cose. Da cosa partiva? Giorgia Meloni, tu? Da quelle che stiamo raccogliendo in questo tour di 100 tappe per l'Europa, due priorità. I tagli che sta facendo la sanità pubblica. Non è tollerabile dover aspettare un anno e mezzo per fare una gastroscopia o una mammografia. Lei dice, a me lo dici, governate da sempre. Io veramente al governo ancora non ho avuto occasione di starci, ma poi per un anno e mezzo che è al governo, ma davvero ancora non si vuole prendere mezza responsabilità di quello che loro stanno facendo. Perché loro hanno deciso di far scendere i fondi della spesa sanitaria, non noi. In percentuale, no? Lei sa che lei invece dice che in termini assoluti sono cresciuti. Cosa la colpisce della campagna elettorale della sua competitor? Che sotto il nome non c'è niente, nel senso che ancora stiamo aspettando di ascoltare una proposta, una visione concreta dell'Europa. Noi stiamo andando in giro parlando di sanità pubblica, di salario minimo, di un'Europa federale che non subisca più e non sia ostaggio dei veti, del più piccolo degli stati che vuole continuare a fare il paradiso fiscale. Perché io trovo inaccettabile che delle multinazionali paghino lo 0,005% di tasse quando lavoro e impresa sono tassati più del 40%. E vi direbbe Ursula von der Leyen, vostra, la sostenete voi socialisti con i popolari. Io sono a capo di una nuova destra che cambierà l'Europa. Ma veramente andiamo a cambiarla noi e da più credibilità nel cambiarla chi l'ha sempre amata e criticata quando era giusto farlo piuttosto che chi, quando ha fondato il suo partito come Giorgia Meloni, ha esordito dicendo usciamo dall'Europa, usciamo dall'euro. Ma senta, parliamo di economia. Non so da dove prenderla, perché da una parte rientra il redditometro, dall'altra parte il condone edilizio. Parte è una parola grossa, perché veramente ne abbiamo contati 19 di condoni. Uno al mese. La storia è sempre quella. Ma sa cosa mi colpisce? Mi colpisce che in un anno e mezzo di governo, sul diritto alla casa, non abbiano fatto niente. Anzi, mi correggo, una cosa l'hanno fatta. Hanno cancellato 330 milioni di fondo per l'affitto che sostenevano le famiglie che non riuscivano più a pagarlo. Il ministro Salvini evidentemente non si è accorto di avere la delega. Non hanno fatto mezzo investimento sulle case popolari e non hanno fatto una legge per regolare gli affitti brevi. Mentre gli studenti, le studentesse, non riescono a pagare un affitto e quindi non riescono a uscire di casa. Ci sono due motivi per cui possono essersi comportati così. Uno è che sono cattivi. L'altro è che non hanno i soldi. Ma veramente bisogna utilizzare meglio quelli che hanno a disposizione. Gli uomini li utilizzano loro. Cosa ci fanno? Qual è il tratto di questa destra? Il tratto di questa destra è che non avendo fatto nulla sul carovita. Lei ha sentito l'altro giorno i dati Istat. Negli ultimi tre anni i prezzi sono aumentati del 17%, i salari reali solo del 4,7%. In quei dieci punti di distanza c'è tutta la fatica che stanno facendo le famiglie italiane. E allora cosa arrivano a proporre? Il servizio di leva. Ma noi nelle mani dei giovani vorremmo rivedere il loro futuro, non il fucile. Sono tutte proposte identitarie. Però le faccio un esempio, raccolgo la sua sfida. Noi abbiamo fatto una proposta che sarebbe a costo zero. Quella di dire finalmente con una legge che sotto i 9 euro all'ora non è lavoro, ma è sfruttamento. E loro hanno provato a bocciarla. Beh, diciamo, non è a costo zero. Qualcuno li dovrebbe mettere. Diventerebbe un costo per l'imprenditore, presumibilmente. Chiaro, però attenzione. C'è qualcuno che anche durante la pandemia è riuscito ad aumentare i propri profitti. Allora, questo paese non si rialzerà finché le famiglie non saranno più affaticate nel fare la spesa e finché non ripartiranno i consumi. Allora, questa ha ragione. Io ora le faccio vedere come aveva lanciato la tassa sugli extra profitti Giorgia Meloni, che si era messa dalla parte del consumatore. Perché diceva, guardate, dopo il Covid, facciamo due conti, farmaceutici e banche. Guardi le banche. Abbiamo deciso di introdurre una tassazione del 40% sulla differenza ingiusta del margine di interesse. Non una tassa su un margine legittimo, ma una tassa su un margine, appunto, ingiusto. Arrivato oggi Giorgetti ha detto, guardate, nessuna banca ha dato una lira. Allora, questo è un problema però davanti al quale si troverebbe anche lei. Perché una cosa è dire, tassiamo i ricchi, tassiamo le banche, tassiamo i farmaceutici. Poi nel farlo le banche si sa che alzerebbero gli interessi sui conti correnti. Quindi pure Giorgia Meloni ha detto, ha detto, una castroneria non lo faccio più. Lei che farebbe? Beh, hanno fatto una marcia indietro impietosa sugli extraprofitti. Avevano fatto un annuncio roboante e poi sono tornati indietro, no? Dando un facile salvacondotto che è quello di rifare degli investimenti. Però devo dire una cosa, non è l'unica questione su cui ha fatto una marcia indietro di questo tipo. Ce la ricordiamo tutti davanti al benzinaio a dire, abbatteremo tutte le accise e adesso la benzina è tornata sopra i due euro. Quindi sono questi qua, tante chiacchiere, ma fatti zero. Guardi cosa diceva del redditometro che da ieri è di nuovo l'obiettivo del governo. Anche sulla vicenda del redditometro, Fratelli d'Italia ha già dichiarato la sua opposizione senza quartiere a un provvedimento che serve semplicemente intanto a fare dello Stato un guardone degli italiani e di fatto a controllare chi fa cosa, chi consuma cosa, chi sarebbe buono e chi no. E del redditometro è come il grande fratello. Sì, siamo andati a casirate d'atta dove c'è... Un modo per controllare la gente. Anche qui ci sono due letture, una alla fine è tornata indietro, l'altra è che nessuno può fare nulla di diverso da quello che un politico italiano che arrivi con i conti che ha fareste tutti la stessa cosa o no? Io non sono d'accordo su questo, perché anzitutto i 4 miliardi che hanno messo sulla riforma dell'IRPEF si tradurranno in un risparmio di 15 euro al mese. Non dico che non sia importante, ma se una persona come quella che ho incontrato l'altro giorno che mi ha detto mi sono ammalata, mi hanno fatto una diagnosi di tumore, non riuscivo a prenotare le visite successive e allora cosa ho dovuto fare? Tirare fuori di tasca mia 500 euro e mi ha detto una cosa fortissima, mi ha detto non mi preoccupo tanto per me che in qualche modo quei 500 euro li ho trovati, mi preoccupo per chi sta nella mia stessa condizione e quei 500 euro non li trova. Allora forse far risparmiare 15 euro ma far aspettare due anni per una visita medica non è esattamente la priorità del paese. Perché? Allora le faccio vedere, guardi il gruppo giovanile di Atreio ha messo questo simbolo sui temi LGTB. Guardi questo simbolo, davanti al fatto che in Europa non votavano, non votavano per i diritti civili, loro dicono non importa il tuo rientramento sessuale, l'8 e il 9 giugno scrivi Giorgia. Perché hanno questa capacità di comportarsi in un modo ma vendere un'altra faccia. Però la gente non è che si fa prendere in giro facilmente, questi sono gli stessi che hanno affossato la legge ZAN contro l'odio e contro l'omobilesbo-transfobia. Le voglio raccontare una cosa. Loro dicono perché poi arrivano nelle scuole elementari dei professori che dicono che il genere lo scegli tu. Ma guardi che l'altro giorno hanno fatto una cosa gravissima. In un anno e mezzo di governo Meloni, sui diritti LGBTQIA+, l'Italia è retrocessa alla posizione 36 su 48. Siamo sotto l'Ungheria di Orban. È una vergogna. Le voglio raccontare che l'altro giorno in Argentina un uomo ha dato fuoco e ucciso tre lesbiche. Se fosse successo in Italia non avrebbe avuto neanche l'aggravante per i motivi di odio. E questa è colpa della destra che negli applausi ha affossato una legge che diceva che non si può discriminare per l'orientamento sessuale o per l'identità di genere. Che carattere ha la destra di Giorgia Meloni dal suo punto di vista? È un carattere corporativo soprattutto perché gli piace distribuire mance senza risolvere strutturamente i problemi delle persone. Ha un carattere molto nazionalista solo che anche l'altro giorno, le faccio un esempio, è stata a Madrid, è stata dai suoi amici alleati di Vox e da lì circondata da nazionalisti, da nostalgici della dittatura franchista e da amici di Trump attacca noi e dice la sinistra vuole cancellare l'identità. Allora un giorno ci spiegherà cosa vuol dire. Intanto le vorrei ricordare che lei in questo anno e mezzo sta cancellando la libertà delle persone perché se ho un salario da fame e non riesco a pagare un affitto non sono pienamente libero. Allora rimettiamo nell'ordine le cose. Io sono molto fiera della nostra identità che è antifascista come la nostra Costituzione. Vorrei che lei potesse dire lo stesso. Dove chiude la campagna elettorale? Facciamo un comizio finale a Firenze il 6 e poi a Modena spero. Ma le dico che il 7, l'ultimo giorno di campagna elettorale, saremo a Padova non per fare un comizio ma per commemorare l'ultimo comizio che proprio in una campagna europea fece Enrico Berlinguer prima di morire. Ottieni a Selt in bocca al lupo. Grazie Elisola e andiamo il benvenuto.